I rifornimenti di armi di Bracus Zan alla Legione Rossa stanno per finire. Squadra, lascio l'operazione forgia nelle mani di Suraya Odon. Che stanno facendo? I cabal là fuori. Dobbiamo aprire la porta di sicurezza. Ci sarà anche Kaida. Buona fortuna. Siete stati voi a sparare il razzo? Credevano fossimo autorizzati ad averne altri, dopo che io sappi che non ho niente a che vedere col divieto dei razzi. Non siamo stati noi. Devono avermi rilevato nella loro rete. Allora mi preparerei per l'arrivo di rinforzi. Molte rinforzi. Il radar mostra rinforzi in arrivo. Perché l'hai raccolta? L'ultima mietitrice ha esposto una cella a combustibile. Forse possiamo sfruttarla. Così poteva capire dove avrebbe fatto più danni. Semplici, no? Dici? Dai, così. Bella roba. La barriera dovrebbe essere disattivata. Ancora non sono riuscito a rintracciare Zan. Ma i Cabal solitamente piace essere trovati. Questo non è un rinoceronte spaziale da quattro soldi e le sue armi non sono male. Quelle armi hanno abbattuto un sacco di persone. No, non fraintendermi. Si merita qualsiasi punizione e questa squadra decida di infliggerti. La nave è ancora qui. L'ha presa Zan dopo che avete abbattuto Tumos. Strano che non l'abbia riverniciata di verde per abbinarla alla sua armatura. Scusa, verniciato cosa? Eh, niente. Si torna sulla nave. Stiamo arrivando per te, Zan. Gliela faremo pagare. Siate scrupolosi. Nessun segno di Zan. All'ascensore è l'unico modo per procedere. Avanziamo. I Cabal hanno creato un ascensore che va in avanti. Che essere inefficenti. Un altro carro armato. C'era un altro carro sull'ascensore. Un altro carro armato. Un altro carro armato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.